e buonasera in compagnia del pè stasera qui con noi e con tortello che però non vedete perché questa è una sorpresa ragazzi miei guarda quante tier list di bani vuoi guardare sì perfetto perfetto allora ragazzi prima di iniziare la tier list di questa sera due parole mi hanno chiesto di fare un piccolo recappone del mio reaccess di wilds of eldraine che c'è stata stamattina ragazzi è una bomba è bellissimo wilds of eldraine è veramente veramente bella come già sembrava in in fase di analisi di visual spoiler abbiamo provato un bel po di robe in nero è esagerato ma oddio c'è quel drop a 2 rosso che si gioca in mono red molto carino però i contro sono molto più solidari i contro sono mostruosi il contro sono forti buonasera claud buonasera buonasera e i contro sono forti ragazzi contro sto giro sono forti davvero esagerati ma poi quando abbiamo giocato v vincere solo vrattando l'oppo è stato incredibile cioè ti basta veramente fare la vratta giusta mai il control penso che detenga il numero di vratte per ogni turno dal 3 in su sì 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 conferma ogni turno dal 3 in su potresti e ti dirò giocare bianco praticamente ti permette di giocarle tutte quindi solo brada rudenda non giochi quindi ovviamente se sì e manca quella che è in rosso sì perché rispetto all'altra che distrugge tutto facendo tre danni comunque l'abbiamo sottovalutata molto secondo me impatta historic questa espansione qua perché io ho provato ieri sera orzov token però token aura eriet 2 4 di turno 3 è forte e poi c'è anche il pezzo che si fa da solo micico si fa da solo micico per gli incantesimi e non è male non è male in più non sottovaluterei rovan che potrebbe togliere il turno a crucias nonostante crucias tuttori quello è da provare è da provare perché crucias è 3 1 quindi muore da orco esatto e rovan no è 4 2 rovan è 4 2 minacciare e poi lo sconto è quasi fare il tesoro e alla fine eh più che altro esatto c'è da vedere non tuttora però non tuttora ma c'è davvero vedere se colonello sinergista davvero così bene sì e poi c'è basic the mirror che è quella che è fortissima è tutt'ora che ti mette ah quella che mi hai detto prima ok sì sì fortissimo assurda è veramente assurdo troppo pericoloso comunque stasera siamo qui per fare la tier list pre il drain che è la tier list di settembre è una tier list che come vi diranno i moderatori si è riconfermata nel senso che non vedrete molte variazioni dalla scorsa però qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato perché alcune cosine sono andate modificandosi e porca miseria in questo mese in questo mese se posso dare una infarinatura generale all'inizio e i control sono definiti per quello che sono sono molto forti sì dimir geskai uv esper anche rakdos in realtà gioca molto da control adesso perché è un mid range è chiaro nella definizione del mazzo però quello che fa in best of one è controllare la partita e poi ucciderti spaccare spaccare esatto scartare e quindi prima di iniziare la tier list volevo fare un piccolo giochetto con l'acciate con i mod cioè lasciarvi un attimo la parola a voi per fare un piccolo tra virgolette sondaggio non lo faremo in realtà però lascio la parola a voi appunto come se fosse una piccola inchiesta un piccolo sondaggio e chiedervi secondo voi anello scioldred tutti ne parliamo tutti ne sono conti qualcuno ne no anello scioldred è così preponderante nel formato dall'essere ingiustificabile o è preponderante dal può starci oppure è ininfluente allora influente no secondo te sono d'accordo su quella prima cosa non ha senso dire che è un influente anello sicuramente dà una marcia in più tutti i mazzi nel nero ha questa fortuna di avere scioldred che annulla quasi possiamo dire il drawback di anello lo annulla dandoti anche del vantaggio l'unico motivo per cui il bain ha sempre detto e anch'io accordo con lui diceva che anello non è così sborcato come la gente crede che anello ti uccide se tu hai una carta come scioldred che annulla questa cosa e anzi il suo il suo farti pescare sempre più carte per farti perdere più punti vita diventa il punto di forza perché ti continua a far pescare ti fa tenere pronto e ti fa guadagnare più punti vita di quelli che vai a perdere progressivamente no no infatti come abbiamo già discusso più volte off stream scioldred direi diciamo tutti che ormai il suo l'ha fatto due anni di scioldred si sono fatti sentire bannare anello secondo me non avrebbe senso in questo momento perché toglieresti un pezzo che è stato messo in tutti i mazzi al di fuori dal nero anche e che comunque la sua la dice perché comunque anelli in molte situazioni ti salva sì 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 vabbè che abbia riportato in auge migliaia di mazzi è assolutamente vero il suo ban vorrebbe dire ritornare indietro cioè sostanzialmente tornare a quello che era l'historico pre signore degli anelli orchetti non lo banni secondo me però cosa vuol dire tornare a meta pre signore degli anelli vuol dire tornare a maghi eh esatto tornare a qualcosa che non cioè avere anello è comunque un proteggino perché comunque turno 4 tutti i saldi è un fogg alla fine è un fogg per i danni mostruoso e comunque per i primi 3 4 delle prime 2 o 3 volte che usi anello il drawback non è così esagerato cioè secondo me quei 3 danni sono supportabili dipende contro chi c'è dopo dipende da contro chi c'è se c'è contro un agro ovviamente ma ho ragione e questa è la cosa che lo rende bilanciato cosa che non lo è se poi ha il turno 5 dopo anello ci fai shielder dopo d'altronde negli altri bannare anello vorrebbe dire togliere l'auge degli altri mazzi e rilasciare il nero che comunque sceglie e dice vabbè ho fatto fox ci chiede ma shielder la trovate comunque così rotta anche se non ci fosse ring sì vabbè prima dell'anello comunque ricordo che shielder dovunque c'era il nero veniva giocata sì certo era un turno 4 perfetto alla fine il problema è che non puoi sostituirla più che altro ragazzi stiamo parlando comunque di una creatura che ha dead touch e ha una costituzione di 5 che adesso con fiamma di honor sì vabbè diciamo quante volte succede che te la tolgono però prima non c'è nulla che ti toglie shielder con un colpo solo se non saccante che passa per i danni ovviamente saccante l'indiane company però sono nere il problema è che sono nere hai capito? esatto lì è il giochi dei mirror e quindi sì noi discutendo abbiamo detto più volte che non è uno di noi shielder il suo l'ha fatto un bann non sarebbe così sbagliato anche perché si è capito davvero la potenza di questa carta è rottissimo il problema è che shielder ha trasformato una meccanica che dovrebbe favorire i giocatori come la pescata in un malus sì cioè nel mezzo che dovresti pescare ti serve quando c'è contro shielder dici ok io non pesco secondo me ha fatto io sono stufo sinceramente di giocare solo shielder perché cioè se quando parto a costruire un mazzo se c'è del nero dentro oltre adesso c'è anche orchetti ma shielder è imprescindibile è imprescindibile quando una volta al turno 4 potevi provare a fare obliterator che era un'altra opzione adesso c'è shielder il problema vero è che orkish ragazzi lo vratti con una vratta a tre mana eh sì cioè letteralmente è brotherhood end parlando prima ma anche meglio quella che fa un danno a tutti è tempo strega un danno a tutti cioè orkish è fortissima è rotta è sbagliata siamo d'accordo perché il fatto che comunque ma muore è molto meglio è gestibile è molto gestibile alla fine non è gestibile se dall'altra parte sei in un mirror e l'oppo te la gioca e tu devi salvarti con l'anello ovviamente lì è la situazione tu devi pescare l'oppo è solo contento verissimo verissimo no poi più caldo per il discorso fatto anche molte altre volte richiediamo nella gran boccia il ban di due carte che le due carte appena uscite sicuramente prima di un token non le bannano a sto punto shelly sono due anni che gira sono due anni che gira un po' di map quasi due anni forse forse e sparo un po' questo prima della tier list forse si può bannare anche carnino carnino si a 4 dice possiamo aprire un discorso anche su carnino forse si può bannare anche carnino o meglio tutto questo non avrebbe consistenza come discorso con una scelta molto semplice da parte di wizard sbanno counterspell sbanno counterspell perché no? come abbiamo già provato nell'historico no ban sbanno counterspell counterspell in questo momento non è un problema secondo me come bolt non sono questi queste due carte non sono più come una volta probabilmente che non lo so giocandoci una volta non so come fossero penso che il no ban event abbia fatto vedere quanto siano normali in questo momento nel meta rispetto ai deck channel va bene quello è sbagliato si capisce ragazzi io lo metto ci farmo le giornate finché c'è perché 15 vittorie con nulla mogaturno 2 si fanno in eh da spada spighe cloud sarebbe un ottimo sbanno secondo me ci sta il problema grosso di da spada spighe è che ti toglie tutti gli aggro quindi non lo so patto exile patto exile esatto alla fine sarebbe patto exile se proprio non da spada spighe patto exile sai sono dell'idea che quella tripletta lì bolt counterspell patto exile ora come ora forse non sarebbe così impattante da risbannare no forse anzi aiuterebbe forse a variare un po' il meta perché bolt risponde a orco patto exile risponde a orco counterspell risponde a shelly anello cioè hai possibilità di allargare le risposte mantenendo le stesse minacce esatto mentre invece ad esempio una cosa banalissima riammettere uro eh no ragazzi abbiamo visto no scusa ho sbagliato occo occo uro si occo sta bene dove sta occo per me uro ci sta uro non sarebbe cioè tre vite pesco vuol dire che in un meta di orchetti comunque mi faccio male sì no sicuramente ecco è comunque una carta forte ma non conto occo occo è occo è occo è ho avuto la possibilità di provarlo io non conoscendola come carta mi sono resi conto dalla prima volta che l'ho giocato il power level è enorme di quella carta enorme vince da solo sì sì vince da solo va il tesoro lo anima c'è il food token lo anima lo scambi trasformi le creature dell'avversario in un in un 3-3 è incredibile secondo me ragazzi è arrivato il momento di riavere bolt secondo me è bolt counterspell non so brainstorm perché è branza il problema grosso di branza è però il problema grosso di branza è che ti aggira scartino e quindi non lo so comunque quel pesco 3 pesco 2 pesco 3 pesco 3 pesco 3 e metti due giù esatto comunque vediamo con le fatine che arriveranno secondo me un ponder un preordrain se non proprio brainstorm non lo so secondo me non cambiano niente nel senso non sono quelle espelli che fanno che determinano i formati serve una risposta veloce a un'aggressione veloce l'aggressione più veloce del formato al momento è orco devi rispondere ad orco ok bolt potrebbe essere quella soluzione però pensa già a quanti mazzi perdendo sci oltred perdono sostanza che giocano sia orco che anello tantissimo quando tu ti ritrovi contro un op che ha contro comunque cioè che è in campo shell e orco cioè tu sei pesco e sei rovinato non fai più niente si e con questo discorso ragazzi cominciamo la tier list di questo mese ora i mazzi sono gli stessi non abbiamo avuto new entry questo mese nessuno ho beccato un fenici incredibile che era l'ultima mia partita di un evento io se devo dire questo mese ho trovato molti coraggiosi che hanno portato San Vizio ecco allora cominciamo da quello se ti va tu come lo definiresti devo dirlo secondo me alla fine lui è un gatto forno un po' diverso da come l'ho visto giocato io il fatto che lui con il fatto che gatto forno contiene entrare fare il token il fatto che dopo lo sacrifichi e lo fai all'infinito è un sacrifice è un sacrifice solo che è un sacrifice combo perché fa la stessa cosa che faceva se ci pensate Bola Citadel però lo fa meglio come la stessa cosa che fa girare spesso quel mazzo lì che è Rosy Cotton che viene usato anche molto spesso in square combo lo fa girare quando non hai Elliot quel pezzo di combo in più che fa sempre comodo e come lo definiresti questo mese è girato un po' è girato molto di più di quello che mi aspettavo nei mesi scorsi cosa che avevo detto che era introvabile secondo me io sono indeciso perché quando ti scombano non lo fermi più non hai modo di fermarlo e lui di solito generalmente scomba 4 lui è al turno 4 dipende dipende se ha fatto ramp di primo se no è al turno 3 io sono indeciso tra l'uno e mezzo e due secondo me perché comunque soffre come sempre dal removal perché d'altronde basandosi una combo sulle creature che devono rimanere in campo fatta il push tutte quelle robe lì removal secchio fratte lo distruggono no scusa scomba di quarto comunque perché tu fai il food con l'oca ma il food poi lo devi usare per mettere il gatto nel cesso quindi tu fai turno 1 oca turno 2 gatto e forno no turno 3 turno 3 senvise no vinci 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 no non è giusto è turno 3 io sarei indeciso tra l'uno e mezzo e il due però devo dirlo un e mezzo secondo me non si starebbe neanche così male allora io l'ho trovato parecchio allora il grosso problema di senvise è che è nato nello stesso momento in cui Yagmoth si è confermato e quindi sono i due combo creaturosi che si fanno molto molto attrito perché uno è un po' più stabile l'altro è un po' più random si o è uno e mezzo o è due sono d'accordo si non saprei dove metterlo più che altro Yagmoth al contrario mi sembra si più solido ma più complesso da mettere in combo secondo me dipende da come ti gira perché Yagmoth il bello di Yagmoth è che ti aggredisce eh sì esatto il problema è quello perché più che altro trovo molta più gente che riesce a scommarmi prima con senvise che con Yagmoth cioè anche per il fatto che Yagmoth lo fai turno 4 o turno 3 però puoi fare corda cioè puoi fare cose un po' diverse allora facciamo così iniziamo buoni poi al massimo lo togliamo tu hai dato uno e mezzo si io dico uno e mezzo va bene mi tortello hai qualcosa da aggiungere non vedo senvise da quando è nato quel mazzo quindi non so che dirvi ragazzi io sarò la voce bianca cioè la voce nera la voce bianca del corde non fate conto su di me su queste cose io la prima e ultima volta che ho visto senvise è quando te l'hanno giocato contro con te che ero in live quella volta non ha funzionato niente che l'hai asfaltato male fine eh ma perché è molto fragile siamo buoni come vi hai detto purga turno 3 esatto i porti dei food siamo buoni non posso dare pareri perché altrimenti direi cazzate uno o due non posso partiamo con un tier 1 e mezzo poi aggiustiamo un altro mazzo che avete trovato parecchio ah vabbè partiamo dai contro allora che sono quelli che adesso stanno riempiendo di più il formato partiamo da Dimir che lo sto vedendo ovunque eh Dimir ragazzi non ci ho vinto una volta contro Dimir Dimir è troppo forte quando c'è venti col mio Rakdos Dimir è troppo forte deve girarmi cioè io ci gioco io devo dirlo molto spesso che le volte ero io col Rakdosanello e io devo dirlo se non vedi Candrona Dimir è troppo forte ragazzi e comunque anche Candrona rischia di essere sopraffato sei delle mani buone ci fai delle belle partite però no vabbè ma devi avere cioè lui ha una capacità di riprenderla in mano o poter fare degli errori poi c'è quel peschino con Sauron che è bellissimo ripeto quando un mazzo gioca il nero che adesso è il colore più forte di Magic probabilmente cioè di Arena e in concomitanza gioca il blu che controlla ho premettito che il peschino però Dimir c'è anche della gente che non si compatta però ragazzi possiamo dire tutto quello che vogliamo ma è un tier 0 del formato è troppo troppo forte sicuramente con UV hai delle speranze dipende da chi parte dipende da chi parte come partite anche con Ragdos sì una volta ci ho quasi vinto una partita perché ero partito molto bene dopo giustamente lui è la ripresa è un tier 0 ragazzi è un primo a dire che è fortissimo c'è i contro in questo mese ragazzi sono fortissimi allora a questo punto togliamo via il dente UV anche partiamo subito da UV io sono sono esterrefato da quanto mi piace quel mazzo è troppo forte cioè la lista che abbiamo giocato l'altra sera da Paolo sì cioè è una lista del cazzo però ha fatto 6 ha fatto 6 tra l'altro con facilità nel senso che abbiamo trovato contro mazzi che comunque la loro dicevano perché comunque abbiamo trovato e può rispondere a tutto una cosa che secondo me definisce il tier 0 di questo formato è che ogni mazzo che ha il tier 0 in questo momento vuol dire che può rispondere a tutto il meta a tutto il meta e UV risponde a tutto il meta può vincere contro qualsiasi mazzo e quindi questa cosa per me è imprescindibile sono il primo a dire questa cosa è allusinante è troppo forte ed è anche un tier 0 assoluto cioè lui e Dimir sono incredibili in questo momento qua cioè il fatto che tu con una vratta 7 che si gioca in standard possa ribaltare le partite in istoric è assurdo risponde a combo è allucinante farewell farewell marcia no marcia purga purga risponde è veramente incredibile quanto è diventato forte già era forte prima squaletto squaletto in monocopia io lo sto amando tantissimo salva le partite salva le partite ha un body grosso ti salva da anello da orchetto e poi ti fa ripartire a un certo punto perché tu se vorratti le creature te ne freghi te ne freghi perché poi hai token è troppo più forte adesso rispetto agli altri poi 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 andiamo su ha fatto una domanda in chat che domanda ha fatto che ma con UV e tier 0 come collochiamo la richiesta di sbandi counterspell perché c'è anello negli altri mazzi ragazzi cioè il fatto cioè se abbiamo paura di un counter a turno 2 in questo formato qua c'è qualcosa che non va perché tanto i counter a turno 2 ci sono già cioè alla fine quando tu fai counter a turno 2 fai counterspell in questo formato qui non esiste che ti possano girare attorno no non esiste secondo me è un ennesimo counter in questo momento si ma servirebbe perché non lo giochi solo in controllo esatto lo giochi anche nei mazzi che splashi col blu no a maggior parte di controllo di la realtà prenderebbe un turno 2 che finalmente è buono eh si a guardare gli altri mazzi che ti possono fare un penso tu problematico che trovi mazzi come che non vratti a turno 5 esatto mazzi come inzette e quel troppo a 2 ti può potenzialmente far perdere perché poi ti basta per assurdo giochi un altro troppo chi è oh grazie mille settimo mese o per una sfiga tua di pescato comunque riesce a giocarsela bene e a ottenere una bordo solida per picchiarti esatto perché? perché da turno 2 turno 5 hai preso dei danni gratis non avendo un turno o un qualcosa di comodo da fare sono d'accordissimo da resti a mazzi come i Z e Simic finalmente Simic Simic potrebbe tornare in auge con counterspell perché non glielo danno? cioè ma perché? gli hanno tolto Vale of Summer e Once Upon a Time giustamente giustamente tagli counterspell no non puoi giocare Simic Simic è adesso ingiocabile raga Simic è ingiocabile ragazzi partiamone allora andiamo avanti non lo so andiamo a caso pesco a caso Mono Red dai Mono Red posso essere onesto da quando mi hanno nerfato Kumano io non ho più voglia di giocare a Mono Red sono d'accordo è stata una gran perdita per Mono Red però posso spezzare una lancia 5 danni è molto forte e lo puoi giocare Artisan sì no sicuramente lo puoi giocare Artisan sicuramente non è che non reputo onesto come il mazzo Mono Red però non ho proprio più voglia io di giocarlo non so perché sarà però 5 danni io preferisco mettere in Boros in Totterie eh io però ragazzi cioè da quando ho scoperto che puoi giocare un mazzo senza Rari senza Mitiche perché c'è quella quella spell lì sicuramente sì io darei due e mezzo sono d'accordo un due e mezzo cioè poveretto sono d'accordo sono d'accordo però è il mazzo new player cioè questo è il mazzo new player adesso per forza io sono ho un'altra idea secondo me dopo ce la dici dopo ce la dici che vabbè è molto facile da indovinare pescane uno tu Michi uno io vai via il dente via il dolore Maghi fuori dalle valle subito Maghi sì vai ho fatto 3 allora ho fatto 3 eventi negli ultimi cioè nella settimana scorsa sono finiti entrambi 3-3 le uniche vittorie che ho fatto erano contro Maghi fine 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 io allora prendevo il cazzo da tutti tranne che da Maghi io sono arrivato a questa conclusione Maghi è un mazzo che la sua la dice perché comunque è un mazzo veloce se la dente reputa in questo formato che un mazzo veloce sia un mazzo forte mi dispiace ragazzi non sono d'accordo perché Maghi adesso soffre tantissimo ma davvero tanto siamo ritornati al periodo post auge dei Maghi come era successo mesi fa due mesi fa io l'avevo profetizzato però io ci tengo a dire che l'avevo profetizzato Maghi non ce la fa non ce la fa più ragazzi stiamo scherzando possibilmente smettetela di giocare con l'anello non c'è verso non c'è verso un'altra cosa peschini e spari a uno solsari perché ti fanno non c'è verso soprattutto cioè devozione dell'anello e soprattutto smettetela di giocare iteration Maghi non c'è verso nemmeno quello basta non ne posso più di vedere iteration di Maghi l'altro giorno un ragazzo mi è morto davanti perché ha fatto iteration e ha isliato terra ma aveva già fatto terra il turno però era il top deck e la pescata con un peschino quindi cosa fai cioè a cosa cazzo serve fare due mana pesco uno eh capito quando c'è quando ci sono i Maghi carte che ti fanno pescare di più e meglio esatto esatto quindi sì Maghi sceso non è due e mezzo due secondo me ah io l'avrei messo qua in altro no è un tier 2 ragazzi è un tier 2 io mi sono già espresso fin troppo in Maghi ragazzi io sono stufo di dirvi che è un bel mazzo se volete perché vince se volete parlare sono il primo che l'altro giorno mi ha dato un video sul gruppo dove ho fatto 29 danni a turno 4 con Maghi sì però quante volte ti succede adesso quelle volte dici ok figo l'ho fatto basta ho ricominciato la nuova season a metà mese perché non c'ho niente da fare ho fatto Maghi ho fatto dieci partite ho stravinto contro tutti sì sì Maghi meglio di Monored sono il primo sicuramente Maghi dipende se Monored è on the play se è on the play gli appoggio un Eidolon e l'Eidolon non lo risolve sicuramente dipende allora sono d'accordo è un tier 2 io sono contento che lo definiamo un tier 2 perché è l'agro del formato sono il primo che arriva Diamante con Maghi in un pomeriggio perché così ho fatto il Diamante sì ma non conto c'hai capito il fatto è che poi la gente dice sono arrivato Diamante presto vado a fare gli eventi vico tutto e no perché i meta sono diversi sono il primo a dire ragazzi io manchi lo uso per arrivare a Diamante e assicurarmi con le 4 boost che poi non guarderò più neanche non la guardo più fino a fine mese è fine perché tu ci arrivi guarda parliamo di un mazzo che se lo mangia Maghi che al momento è diventato pium Mononero ecco questo era il mio secondo me un nuovo giocatore non lo può costruire completo ma che Mononero è forte però Mononero da Mononero budget con quello che è all'inizio secondo me Mononero un mazzo fatto è finito che ti porta avanti per un po' perché non c'è ChefCast ma in chat sono lui il primo dirtholo che ha ricominciato con l'account ha letteralmente sbustato un anello e due orchetti si è fatto il Mononero e ha fatto dei 6 in evento con un mazzazzo budget con le rare che aveva che ha trovato e tirava dritto allora posso dire una cosa Mononero è molto forte è un tier 1 secondo me il problema di Mononero è la consistency perché se tu non hai un anello o un carne non ti fa un gran vantaggio carte e si può inchiudare è monocolore è il classico vecchio Mononero è monocolore però quando ci ho fatto 7 l'altro giorno con una facilità tremenda perché le carte sono arrivate bene il power level è molto alto il power level è molto alto giocando le carte più forti attuali del formato e potendolo fare da un nuovo giocatore potrebbe farci una sorta di Mononero che funziona io dico spoiler Mononero rimarrà tale fino a quando non intervengono sul formato perché siamo i primi a dirlo se dovessero toccare Shelly no se dovessero toccare Shelly anello e orchetto è probabile che scenda però finché rimane così Chiero rimane un colore solidissimo è un master è un tier 1 è un tier 1 confermato qui c'era ancora il Gifted Aetherborn che non si gioca più qualcuno me lo gioca ancora è un 2-3 lifelink è esatto è un buon blocco è un buon però si è un tier 1 siamo d'accordo è un tier 1 poi c'è una domanda che dice Mononero Budget meglio di Maghi finito? in questo momento può rispondergli molto meglio letteralmente tieni una mano di Maghi con due creature e te le sparano subito si ma poi c'è quella Removal Common che ti ha fatto meno 3 guadagno vite è Lonely End è fortissimo però sperare di vedere poi un anello o una Shelly per confermare devi leggere che lui è Maghi quindi se vedi un Giganta e tieni una mano di Removal sei contento sei molto contento dipende da tante cose dipende da tante cose però Dream of Steel and Oil colpisce Maghi cioè capito? se colpisce il punto dei voli di Maghi cioè che devo giocarti il pezzo per forza poi adesso no Mono Nero non può essere sopra Rakdos ragazzi allora no no sono il primo a dire che si cura ok ma a livello di forza guarda l'unica cosa che posso dire è che l'unica cosa che potrebbe avere Mon Nero rispetto a Rakdos è non incastrarsi col colore perché essendo Mono eh ma adesso sì no però cioè i ragazzi io non penso da un voto che mi succede che in Rakdos non mi incasto con il Mana cioè sono sempre perfetto ma poi gli hanno dato anche Montefatto ma sì esatto le terre ci sono per giocare bene Rakdos e non incastrarsi perché ti hanno visto di terre correttos andiamo su un le tolgo subito uno che ce lo togliamo vai Fenici altro mettilo subito poverino ci ha fatto probabilmente un 6 l'altro giorno un ragazzo però sì è fragile è fragile con che coraggio con quanta determinazione finché non ribaffano darsi hanno le hit secondo me non può avere una speranza non può avere una speranza guarda adesso vi chiedo un altro mazzo molto forte che ti scombo sai che posso dirlo è sparito no no magari fosse sparito io per quanto l'ho trovato io ho trovato stra poco cioè ho trovato più rispetto al mese scorso trovavo più che ti scombo adesso trovo più senvise dirò una cosa riguardo a che ti scombo senvise ah non l'hai mai trovato io trovo solamente dimmi uvicontrol e mangi ti è sfiga e raga non so che dirvi ho trovato una fenice una volta che vabbè ho arato malissimo che ti secondo me è ancora un tier 1 e mezzo o tier 1 o tier 1 e mezzo io ti direi un 1 perché comunque quando scomma non mi fai qui niente sai qual è la sfiga di che ti scombo è questa che ci sono in tier 0 di contro e vabbè è quello che non lo fanno arrivare lì in alto e lo fermano prima infatti secondo me lo fermano al granino prima ma secondo me è un tier 1 è fortissimo è un combo forte solido ci sta è un combo a livelli di non so se dirti a livello di Yagmoth però secondo me se la giocano si hai voglia se la giocano lui yagmoth attualmente sono i due combo più solidi del formato sono molto d'accordo si poi Alci grazie mille per il Prime e benvenuto tra gli abbonati benvenuto benvenuto allora Niktos sparito sparito non so come ma è veramente sparito ti spaccano l'elfo di primo guarda l'ho trovato oggi io ho fatto un evento oggi l'ho trovato letteralmente Inquisition è un turno mio sulla play scarto elfo lui aveva drop solo dal 3 in su in mano io per i primi 3 turni ho fatto quel cazzo che volevo ho preso controllo della partita non ho fatto più niente ma infatti secondo me adesso è un tier 2 e mezzo si si è un peccato è fortissimo perché secondo me prof grazie mille per il nono mese perché secondo me lo ritengo un mazzo ignorante perché è quel mazzo che gioca sul fazzo ad un certo punto metterti giù sulla board è l'inverosimile però deve sempre partire con quel rampino perché ha bisogno ha necessità di quel rampino per partire perché sennò viene rallentato e gli altri mazzi se lo mangiano pian piano si ma poi adesso anche il fatto che abbia nonostante non è così forte perché è vero che Chiora ti fa vantaggio però il vantaggio lo paghi adesso perché se sei contro scegli orco si Chiora non è più adesso è quel turno di Chiora diventa sempre un rischio anche perché letteralmente Ragdos che gioca è messo turno 1 un pezzo che non lo so adesso butto lì e a turno 2 fai molto impact sul place walker si si sono d'accordo l'hai rovinato sapete cosa leggevo in chat che ti scombo uv soffre tanto da che ti scombo dipende quante purghe hai si se riesci a gestirlo prima è sempre quello perché se purghe è turno 3 tu sei on the place è contentissimo gli hai rallentato sia gli artefatti che l'ha scombata è lo stesso discorso contro deve riuscire ad arrivare al turno 4 in poi lui invece vuole provare a chiuderti prima del turno 4 è una gara chi riesce a mandare l'altro nel turno preferito che l'altro oppo vince quello che hai io sono a posto dunque andiamo da un altro mazzo che è molto molto particolare secondo me e che si rifà un pochino al discorso di Nick Toss vai Grisfang per me due mesi che non lo vedo torniamo sullo stesso discorso di un mese fa non capisco perché la gente non lo giochi l'ho ritrovato una volta perché non lo gioca la gente certissimo cioè io non so hanno paura non lo so è dispendioso come mazzo ma no tutti quelli che ce l'avevano giocato mi sono finiti infatti io dico questo cosa stanno giocando trova un più solido magari adesso un Dimir o un Monaco o che davvero non piace più non è più un mazzo che piace essere giocato e quindi la gente non lo gioca purtroppo questo mese si è confermato non visto dobbiamo mettere 8 e 2 e mezzo però non è giusto come quell'altro compare che questo l'ho visto di più questo mese qua questo adesso ne parliamo perché c'è stato uno spoiler importante esatto perché la gente ha detto o sai che forse da il Dre allora restiamo su Grisfang un attimo 2 e mezzo siamo solo perché nessuno dei tre l'ha visto non sappiamo come sì no prendiamo una così nessuno di noi l'ha visto è un mazzo che comunque se preso nella se preso nella sua interezza è un mazzo fortissimo ragazzi a turno 3 Parallion che ti fa 9 danni con i due angel no sono 12 sono 12 danni a turno 3 no 5 più 4 più 4 sono sono 13 anni se li gira da Deerobain a turno 2 te l'ha fatto ragazzi è più forte di Dredge ma non lo giocano cioè giocano 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 Dredge ma perché perché ti milla più sinergia non lo so davvero non lo so vabbè l'hai citato andiamo a prendere 9 vite sta tornando ragazzi date il tempo a Fire Action Alive date tempo al Drain di uscire portare praticamente spodestare 9 vite farlo giocare con un altro nome che rimarrà il 9 vite classico ma che non giocherà più con 9 vite sì perché Fire Action Alive sarà un problema Carlo chiedono se Carlo blocca Grisfang blocca il veicolo ma è un turno dopo esatto cioè Grisfang ti l'hanno già fatto turno 3 Carlo lo fai a 4 lo rampi sì che comunque non lo so è molto strana la questione di Grisfang secondo me non possiamo neanche valutare questa cosa di Carlo perché non lo vedi in giro no infatti a meno che il Bain non si metta a giocarlo ma domani così quasi lo provo così quasi lo provo non riesco a capire perché sia così basso anche stasera anche stasera possiamo provarlo vabbè 9 vite secondo me è un tier 2 sì sì secondo me è un tier 2 chi ha la possibilità di salire che arriva a 1 secondo me è molto noi l'abbiamo detto lo problematizziamo sale tantissimo allora sì perché adesso ha un grosso problema che Sheholdred e Orkett no solo Sheholdred in realtà bypassa 9 vite perché Fire Action Alive non funziona così no esatto perché 9 vite ti blocca i segnali del danno quindi le creature che ti blocca Fire Action Alive ti dice tu non puoi perdere la partita quindi anche se vai in negativo di vite non è più un problema soprattutto se vai in negativo di vite e il problema che era lo scontro 9 vite e Sheholdred era il fatto che 9 vite è generalmente giocato in Selestia al fatto che pesca l'ira di Dio perché deve chiudere ovviamente con Approach è ben diverso è ben diverso con Fire Action Alive non ci sarà più questo problema perché tu puoi pescare l'inverosimile chiudere gli Approach e intanto Sheholdred è lì che ti guarda io ti ho mandato almeno 50 di vite e intanto tu non muori è così è così allora Martellone boh secondo me è stato un mazzo sì esatto è stato un mazzo che l'ha cavalcata basta finito da quando esiste Orchetto che ti spara il pezzo Orchetto che ti spara il pezzo prima del cast di Martello Martello ha finito dai Martello ha finito letteralmente quello che giocavano con Cacofoni tu al cast di Martello rispondi con Orchetto spara Cacofoni ti prendi il tuo bel danno ma poi giocano troppe rimozioni troppi counter spero adesso adesso è proprio è davvero è diventato altro esatto è diventato un altro non c'è molto da dire non si vede più non lo so c'è qualcosa intanto che è finito l'altro che lo citiamo subito qualcosa tra mutanti vogliamo citare l'evergreen tra mutante e altro pochi coraggiosi che lo giocano ancora Slyver è qualcosa di allucinante Slyver è qualcosa di allucinante allora qui ti faccio una domanda particolare ovvero umani io non lo so sono sempre stranito perché secondo me è un mazzo che se parte dritto ti distrugge non ti dà il tempo di respirare perché è il primo pezzo uno quello che si pompa a turno 2 fa i tagli e metti i bastoni nelle ruote i control turno 3 cioè Adelina no Adelina Adelina turno 3 Adelina o quello che ti guarda la mano ti fa cose o brutta il Qatar che fare emozione fare emozione secondo me è un mazzo che la potenzialità ce l'avrebbe è ovvio che soffre da qualsiasi cosa se una brazza o una rimozione all'inizio dipende se hai taglia di secondo sì esatto taglia esatto taglia è quella che la fine e poi arrivi con gli orchetti contro e dici è il problema di taglia sì è che adesso gli orchetti perché c'è l'orchetti che gli da sparare in risposta a fine turno su e dici cosa è diventato un Tio 2 e mezzo o un altro secondo me è un 2 e mezzo no altro no mi dispiace dirai altro perché 2 e mezzo comunque le vince le partite quando gira bene è solo che purtroppo sopra di lui in questo momento ci sono tanti mazzi che hanno rimozioni e quindi lui soffre perché davvero basta purga turno 3 sono d'accordo basta purga turno 3 per mettere in confusione parliamo di un'altra tristezza delfi piange il cuore è ilfi è sceso tantissimo con l'avvento di orchetto ti spatco troppo a 1 1 tu non vai più da nessuno è un 2 e mezzo non c'è molto a dire purtroppo soffre tanto non ce la fa più non ce la fa più perché tu hai rimuovato al pezzo 1 rimuovato al pezzo 3 che è questo e si poi esatto a turno 3 vi togli via l'ultima possibilità che lui aveva per ripartire rimane troppo indietro non fa in tempo a fare le company come voleva prima non ti conviene neanche più dare quello che pesca ogni volta che giochi una carta elfo si si non ce la fa non ce la fa purtroppo nel momento attuale non vive di una buona situazione o gli stampano qualcosa che è a ward che comunque 1-1 ramp ward leggendario tipo si sarebbe quello infatti io in elfi mi sono messo a giocare l'1-2 però il problema è che da mana è generico non sono una roba leggendaria ma leggendaria non giochi niente in elfo si 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 poi mono nero combo che è quello con il goblin io non ho più visto ragazzi c'è più che altro ci sono combo più sicuri il mio commento per i mazzi mai visti sarà dire di più però secondo me l'ho beccato una volta questo mese ha provato a fare la combo però è chiaro che gli manca un pezzo adesso dici eh però prima non eri così perché eh boh non lo so è un mazzo altro dai obiettivamente può vincere qualche partita ma non lo so andiamo su cancelli allora posso dire che io non l'ho più visto io lo vedo invece un bot di volte è incredibile io penso di avere una mezza nemesi con gate perché ogni volta no più che altro me ne accorgo sempre tardi perché ci sorvolo sul fatto che lui faccia i primi due turni a fare terra passo e dico ma che cazzo sta facendo poi guarda e faccio ah ma è gate e lì inizia sempre una secondo me dipende dal mazzo che giochi però molto spesso inizia una guerra contro il tempo perché lui ha i 10 cancelli e vince esatto no più che altro perché io puntualmente quando me lo trovo contro trovo sempre quello che ti fa no no non ti fa fratta ti continua a mettere 2 3 terre per turno e sei lì che dici oh tra l'eta a me fratta non sempre cioè io non mi comodo per vincere e fai gli danni e mi fratta e poi esatto e poi nel momento contro gli aggro contro gli aggro è forte siamo d'accordo ma contro i tier del formato ma cosa fa no più che altro allora al fattore del giocare cioè del vincere in un modo che passa ovviamente per le spelle ovviamente o vienerlo giocando le terre il suo obiettivo ovviamente è giocare solo le spelle e o in questo caso con l'aggiunta di titano verde creature o spelli che ti facciano giocare più terre per turno è quello adesso il suo principale obiettivo ok ovviamente da Sheholdred come sopravvive da anello come sopravvive esatto è quello non ha delle situazioni molto favorevoli adesso deve partire molto bene all'inizio deve partire dritto all'inizio avere la vratta giusta al momento giusto vratta giusto e poi ripartire deve risolvere prime evil ragazzi deve risolvere il titano non lo so quando tu tira i wind che ci sono adesso non è un mazzo eccelso è sempre secondo me non dico un 50 50 perché sarebbe una cazzata però ha le sue probabilità di vincere se gli gira sempre le mani giuste in momenti giusti però boh quante volte gli succede non lo so io faccio fatica a classificare cancelli sono sincero io sono indeciso tra il 2 e il 2,5 ma io ti direi un 2 dite tier 2 non lo so guarda è un fattore mio però non lo so no 1,5 mi sembra un po' troppo 1,5 cancelli in questo momento non è così solito da 1,5 secondo me ma mi fido di voi io sarei stato più cattivo per me muore da dredge sempre non ha modo di avere it dal cimitero ecco adesso tiriamo fuori dredge secondo me io l'avrei messo qua ma forse anche qua no no ma come fa a vincere dai mazzi che girano adesso tu tienilo in 2 con una possibile 2,5 teniamolo con esso secondo me siete troppo buoni siete troppo buoni ma parliamo non lo so dredge lo stanno giocando tantissimo dredge secondo me va più a culo di cancelli sì però è più forte contro i control perché non passa per la stack esatto ok quindi sicuramente adesso in un buon momento per quanto mi faccia schifo perché per me è orribile è proprio brutto muore da purga muore dal muore da similator muore da similator eccetera eccetera però lo stanno giocando in tanti vincono delle partite riconosciamo che è salito rispetto al mese scorso il racewalker blu quello che ti esilla il cesto si 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 muore in tantissimi modi muore anche da solo dredge è vero a volte si suicida però siccome lo stanno giocando in tanti ed è salito ti ero uno e mezzo boh a me non piace cioè io ti giuro io sai indeciso tra l'uno e mezzo il 2 perché io devo dirlo cioè io comunque mi cioè se dovessi metterti una stima su dieci volte che lo incontro nove ci vinco una ci perde boh non lo so tipo anche Angeli se lo mangia se lo mangia completamente non fa niente lui una volta con i volanti ma infatti secondo me secondo me cioè siamo tutti troppo buoni con dredge è un momento buono perché i contro sono i tier 0 ma se ci fossero questi questo 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 qui Reanimator non farebbe più nulla no no ma sono il primo a dirlo facciamo i buoni sto giro con lui mettiamo lo tier 1 e mezzo per me non se lo merita per me è un 2 per me è un 2 per me è un 2 netto secondo me per me è uno dei peggiori aggro che possono agrare sì no esatto anche per il fatto che un pezzo il come si chiama il fantasma lì quello che c'è adesso lì è un arcomeba no no il bloodgast il bloodgast ok lui avendo l'handfall ha una possibilità per tornare in vita l'altro invece che giocano il 3-3 che entra stappato cioè entra tappato boh cioè non è anche non puoi neanche dire che è un buon blocco perché entra tappato allora io ripeto muoiono dalle vrate quei cose qua quindi non lo so boh 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 non ci no cioè no ragazzi esatto se giocate qualsiasi cosa che esilia avete già vinto sono il primo a dirlo non lo so io c'è chi invece io non so secondo me un e mezzo è troppo è un e troppo alto secondo me è troppo alto per me è un 2 come tu cancelli come tu cancelli avresti messo in due mezzo un basso dredge vince da cancelli però ragazzi sì sì cancelli non esili allora piuttosto metti i cancelli in due mezzo ma dredge me lo metti allora sì se vogliamo fare questa cosa parlando in esatto sposti cancelli sotto e metti sotto anche dredge non lo so secondo me dobbiamo anche ragionare con chiano in parte cancelli non possiamo tenerlo a livello di maghi ragazzi no maghi ti mangia e allo stesso tempo ti dico dredge è allo stesso dredge è più forte di maghi se parte in un certo modo se parte nel modo giusto se questo però dipende da quanti creeping chill ti fa e tutto dipende dai creeping chill però se questo parte e lui non ha creeping chill piangi piangi no no ma hai fatto di come ora che ne abbiamo discusso se non è così è corretto sì ma no cioè non ha nient'altro sì no non lo so in questo momento secondo me è che è un mazzo molto fragile dredge sì passa per il cimitero il cimitero attualmente è molto gestibile secondo me a parte ovviamente giocano poco contro il cimitero quello è il problema è perché sono abituati a avere che le minacce grosse sono tutte le minacce grosse adesso sono tutt'altre muore da purga comunque sì no infatti anche una brotherhood fatta nel momento giusto lo devasta lo rovini prima di infatti secondo me è giusto così io ho iniziato a giocare anger of the gods che è fortissima contro il regge infatti secondo me si potrebbe quasi abbandonare brotherhood adesso per anger il suo l'ha fatto allora io lo so ripeto per me per come lo stanno stragiocando in questi giorni lo metterei qua però per me non ce l'ha questo valore qui non ce l'ha non ha quella solidità non ha solidità come quelli in alto come quelli che sta lì sopra sono d'accordo sì sono d'accordo esatto il giro a male troppe volte spesso molte volte incontro producenti millarti quindi sì sono d'accordo ma poi allora è un aggro ok in questo momento gli aggro di per sé è difficile dargli una valutazione alta banalmente un anello che ti gira un farewell che ti tira lunga la partita magari ti ridà quelle due vite magari rimani a uno ma farewell basta è giro di tutto e che cosa ti fa se non hai in mano un bloodgast rapido o un creeping chill da farti a quattro mana non ti fa più niente quel mazzo lì è molto difficile valutarlo molto secondo me è un mazzo che può vincere ma è fragissimo sì sì per vincere vince nel senso che cioè quella volta che ti scomba turno tre è fortissimo e succede succede però è fragile e ripeto non capisco come stia girando questo e non questo è quello è allucinante non lo so infatti anche in South vedo che sono abbastanza d'accordo con il 2 qualcuno chiedeva anche un mezzo aura sì che per me è sparito cioè io adesso non so se davvero con Eldraine prende la vita di nuovo ma secondo me è l'aura che conoscevamo tutti i mesi fa è sparito c'è più o che ti mangia il pezzo all'inizio a cui dai l'aura se no se parti on the play ti mangia più che altro il proteggino ti mangia anche il proteggino ti mangia il proteggino e eh sì aura secondo me ti ha due e mezzo sì no davvero è sparito per me è completamente sparito sono tutte le mazze che devono girare con delle creature piccole creature piccole dopo se gira non lo fermi mica una volta che parte sono il primo a dire perché una volta che è entrato il pezzo che gli hai dato le aure giri la light a portarti le aure in campo sono il primo a dire che non lo fermi più solo che se lo blocchi all'inizio il problema di aura ragazzi è che anche lì anche il pezzo può essere grosso quanto volete purga lo purga è purga lo purga non è che ci sia c'è un gozzo di birra amici purga lo purga e e lui basta finito le aure le perde praticamente tutte e il pezzo ok lo rigiochi entra tappato prima cosa con il drain si potrebbe si potrebbe ricostruire un po' aura ma ragazzi non andrà più su di questo secondo me cioè o tier 2 o tier 2 e mezzo non può è davvero sparito la gente gioca di meglio c'è da ragione abbiamo citato prima dimir ninja salito anche questo sicuramente lo giocano di più adesso come abbiamo detto prima per me salirà dopo il drain salirà dopo il drain perché il dimir ninja ha delle posizioni di totalità ora come ora è un mazzo che deve partire cioè per vincere deve essere partito con gli sningianti giusti lord e giusto cioè altrimenti non fai nulla si poi devi avere sempre il tottero sei un po' l'urrus dipendente se ti beccano il primo ninja è facile che tu non giochi più niente il tottero se te lo spari su te te lo sparano subito e poi il tottero è molto controproducente a volte perché tu fai tottero fonderia e sei ninja e quindi poi a un certo punto non hai più rimbalzino e quindi cosa fai fai un 4-4 che se viene pushato è finita non te lo puoi rimbalzare cioè è strano tanto dimir in questo momento qua Kaya sul lurrus è vinta tier 2 dimir ninja non lo so non lo so tier 2 oh si dai per quanto secondo me potrebbe anche arrivare a 1.5 secondo me nel drain dimir ninja ma prende la potenzialità per diventare super soliere però dimir ninja ha delle partenze bellissime poi però ha delle partenze che se anche sono belle ma l'oppo ha una removal fine cioè non fa veramente più nulla quindi no piangi 2 ci sto cioè non è la pari di regge in questo momento si si ci sta 1000 piange il cuore ma no è sempre altro cioè non ho niente a dire si 1000 ragazzi cioè scusami perché giocare 1000 quando ti scombo cioè ti automilli te non 1000 avversari voglio essere un cazzo di eroe giocare 1000 1000 ha un paio di matchup che sono belli che è UV contro contro le il problema è che se sei on the draw non so se gliele 1000 così bene sono il primo a dire che si inizia a millare le terre a control il control dice però se non inizi se a turno 2 tu mi fai la millata e io ti faccio remand eh sono il primo a dire no no ma infatti non motivo c'è un mazzo d'altro no no 1000 bellissimo siamo tutti a dire che 1000 è bellissimo sappiamo tutti che 1000 è bellissimo però non è giocabile si dai sono d'accordo eh e allora farabutti altro eh vabbè io sono dell'idea che cioè se già 1000 pass allora ha preso orco ne? si si per carità ha preso orco farabutti però è comunque è comunque un mazzo che milla passando per il combat e in questo momento non ti piace dai fare questa cosa cioè piuttosto c'è con l'altro 1000 che almeno passa per l'espelle come ho detto prima tutti i mazzi aggro lì non fanno fatica si però questo non è cioè non è solo un aggro è un aggro sinergico diciamo così no quindi potrebbe essere un po' migliore di questo 1000 in certe situazioni qua però però sono d'accordo è altro è altro però sono d'accordo è altro è altro eh andiamo su big red e big white passiamo prima big red e big white tiriamo via subito non è big white è biancone gattone arancione biancone gattone arancione è un control che passa sulla board e adesso l'ho trovato giocato in altre versioni da altre gente l'ha riadattato si è un misto tra 9 vite e control quindi è un buon mazzo in realtà in questo momento però secondo me stiamo parlando di un tier 2 barra tier 2 e mezzo cioè per carità per quanto per quanto abbia la potenzialità eh sì tu dici anche qua ci andrei a mettere dentro phyrex anal life lo so sono il primo a dire perché a questo punto non lo splasho di blu e gioco il control classico perché è diverso cioè tu qui ti puoi permettere di giocare più board gestione e quindi tutti gli aggro soffrono molto di più sicuramente è uno spot un po' diverso su alcune cose cioè in un mirror di control però come se la caderebbe l'ho fatto solo una volta ho vinto però ero contro il lotus e il lotus lo sapete come la penso è indecente per me può vincere molto facilmente ma può rovinarsi da solo la controllata e quindi no io terrei due sì big red secondo me non lo so mettiamo in altro sì secondo me non ce la fa adesso sceso tanto anello anello sì va bene però sceso tanto solo anello non ti saldi sì esatto solo anello non ti saldi nonostante questo secondo me se lo gioco domani tipo faccio 5 è un buon massimo perché comunque è board è board gestionale e può gestire bene dredge perché c'ha la vratta a tre mana che esilia quindi non lo so non lo so chiedono come sarebbe big red big red giochi tutte le spot removal grosse di mono rosso e giochi le vratte di mono red quindi hunger of the gods e quella che fa 5 danni giochi tutte le chandre e vai di chandre anelli chandre e via non è un brutto mazzo avrebbe sì è solo che adesso non si ritrova in un meta secondo me bisogna provarlo secondo me è tanto che non lo si gioca anche potrebbe essere salito potrebbe essere salito poi cosa che altro mi ci togliano il affinity mono white affinity mono white è sparito ragazzi non lo vedo più continuo a dire è ingiocabile adesso ci sono ci sono gli altri suoi due fratelloni che secondo me sono molto più adeguati e poi adesso arriverà col nero ah finito il nero sì sì gioca con il 3-2 perché ti fa diventare il totter 1-1 di primo è è aure è affinity aure non è solo mono nero a finiti no no bianco nero bianco nero orzo ma finiti secondo me possiamo andare su altro con mono white sì ci sto ci sto ci sto creativity scomparso e ci sono i troppi contro mi dispiace troppi contro mi dispiace davvero perché a me creativity è uno di quei mazzi che mi piace un po' tier 2 e mezzo sì mi piace giocarlo perché è ignorante scomparso sono l'idea che è sempre comunque una carta ignorante creativity sì ci sono mazzi decisamente migliori e adesso quello che doveva essere il mazzo della vita grixis death shadow sen vise beh questo lo dico anch'io sen vise l'ho visto una volta in due mesi ho sentito la gente ai parsi tipo krixis death shadow bellissimo carta incredibile finalmente si può giocare a shadow finito più visto niente non dico che lo trovo spesso ma l'ho trovato diverse volte o io non lo so moriva subito no sì è molto fragile c'era un tier no esatto per questa carta un tier no è molto fragile cioè quando davvero il biobroli si starebbe via via guarda guarda come è sceso però di valutazione vi ricordate la tier list del mese scorso siamo stati molto più buoni perché ovviamente si stava formando ripeto i mazzi sono sempre quelli le cose non sono sempre quelli è giusto diciamo una cosa che non abbiamo detto inizio siamo pre il drain la gente al momento gioca a mazzi solidi per farmare quindi i mazzi che girano sono quelli che stanno in alto e quelli sotto al momento non si vedono sì sì sono d'accordo già il tier 2.5 la metà di quei mazzi io non la vedo più sì 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 io attualmente posso contare dal 1.5 in su i mazzi che tuttora vedo in evento qualcuno del tier 2 qualcuno del tier 2 sì no ok dal tier 2 in su io li vedo gli altri sotto non esistono allora andiamo avanti andiamo avanti domenzo fermi cosa vi dissi io bellissimo mazzo molto interessante troppo lento per le storie troppo lento per le storie ti chiedono se è più difficile da giocare UV contro tutta la vita UV ragazzi UV se sbagliate una cosa avete perso la partita oppure la vincete se la fate giusta in quel momento però è molto 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 strano allora secondo me domain è diventato 2.5 ma potremmo quasi metterlo in altro quasi eh non lo vedo io si ritrova pochissimo ma giusto perché ogni tanto salta fuori ok se non lo gestisci ti vince però vabbè trovi domain non trovi zoo sì no esatto domain zoo in particolare no domain ma no domain zoo no ragazzi vi sbagliate in historic domain non si vede mai è zoo quello che vedete voi con un lighting geeks tribal flames eccetera eccetera questo è anche un domain classico sì è un pazzo quello è un nivmizet allora non è un domain è un 5c ho capito cosa intendi 5 non fa il colore non fa il colore sì ma è è riassumibile in questo ormai terzo enchant ha lanciato a uno flash però ti girano lo stesso sì però cioè quante volte fa quelle partenze lì e poi contro di me oh mio dio oh mio dio si è visto il live vediamo no no non si è visto il live non si è visto ok eh vabbè tier 2 e mezzo ehm jagmot uno secondo me va diretto qua sì sì no 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 molto forte forte solidissimo fortissimo solidissimo fastidioso aggressivo aggressivo non avrei mai detto che un sacrifice potesse arrivare così in alto non è proprio un sacrifice però sì capito cosa intendi sì quel genere intendo non pensavo che un mazzo legione potesse salire così in alto ah è un bellissimo combo e invece è un bellissimo combo è un bellissimo combo ogni volta che te lo trovi contro dici ok ricorda della convocazione gli ha dato un faccaplasso incredibile quel convoco lì faccavoia sì è veramente forte eh pam 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 jesky control io ragazzi secondo me è sparito no 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 io per me l'ho visto sparire con l'arrivo di zed charm l'ho giocato l'altra sera ah che l'ho visto porca miseria se è forte l'altra volta dove l'ha messo in mezzo per me esatto per me jesky è il mio sein vice per me è forte adesso questo lascio a voi qua perché io davvero ah come detto anche le altre volte tra jesky e esper preferisco sempre uv sì 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 senza dubbio però tra esper e jesky scelgo jesky adesso in questo momento c'hai chandra incounterabile c'hai anello c'hai elica e poi ha preso i zed charm counter una non creator se non paga due se non paga due oppure ti pesca due scarta due oppure fa due danni a un pezzo minchia beh carino a due e secondo me jesky lo vedremo salire però attenzione non è più jesky dei mesi scorsi perché jesky dei mesi scorsi era opus elica torrential ghirulk poi molto spesso veniva giocato con yorion sì a volte a volte questo è proprio un jesky control per me ci sta dagli uno e mezzo è un uv che però può vincere delle partite che uv perde perché contro maghi fai tre vite i counter se li hai sono belli ma soprattutto quel charme il charme è fantastico ti salva ti salva parecchio ma io non l'ho visto è davvero un mazzo che per me però dovrà uscire anche un video sul canale del bank questi mesi se l'ha renderizzato proprio adesso jesky è uno di quei mazzi che si jesky control eccolo lì qua tenetelo d'occhio perché è forte è proprio forte poi poi aspetta mi sono perso acqua sotto etherflux lo vedo di meno molto meno sì perché perché c'è dimir che gira e dimir se lo mangia eh sì perché pescando di maledetto e poi counter ai pezzi grossi forse è sceso cosa aveva messo l'altra volta tier 1 1 1 e mezzo secondo me 1 e mezzo secondo me è sceso sì etherflux è sceso anche perché girano 2 è troppo basso girano più carne anche quindi è più facile bloccarlo secondo me non 2 ma 1 e mezzo e se lo mangia e allora prendiamo l'altro combo suo amico dragon storm vabbè mica tanto suo amico cioè intendo ha l'altro combo che passa eh dragon storm è forte ragazzi ecco posso dire che io dragon storm è uno di quei mazzi che davvero no ma come no no io davvero dragon storm è mesi che non lo posso cioè io piuttosto becco c'è il bercher più che dragon storm no no dragon storm si becco io non lo vedo da una vita dragon storm ti giuro più di noi sicuramente io con quel poco che gioco inesistente no no ragazzi dragon storm c'è gira è sempre un mazzo forte è sempre un mazzo forte le ultime 18 partite erano 9 maghi e 5 divir un paio di uv e qualche altro mazzo tier 1 tier 1 e mezzo non ho più visto nient'altro non lo so secondo me è sempre un tier 1 secondo me è fortissimo che la sua forza rimanga invariata per me c'è sempre anche perché cos'è cambiato del dragon storm è sempre il solito dragon storm cambia che in top ci sono dei control e quindi devi stare un attimino più attento quando sei sì però se non becchi lo spot dove becchi i control ragazzi è spettacolare ragazzi è sempre equivato che se non ve lo boccano a turno 4 gioco anche poco però capisci se faccio quel giorno che faccio 3 20 a file trovo solo maghi e dimir sì però quando te lo becchi dici cazzo è dragon storm lui è fortunato io ancora non so cos'è questo dragon storm non l'ho mai mamma mia dragon storm praticamente ti gioca scartare per i primi tre turni il drago e l'altro ultimatum nel cesso a turno 4 con mixis mastery cazzo ultimatum dal cesso o cazzo la spell dei drag storm all'infinito storm all'infinito e ti fa danni infiniti è un combo solo che passa per il cesso e mixis mastery turno 4 se tu lo confronti col formato un po' vincio è da uv se non ha doppio counter dimir se non ha doppio counter tutti i combo se parte on the play geskai se parte on the play se non ha doppio counter scusate maghi se parte on the play dredge penso che se il turno 4 è pronto lo distrugga come fai a non metterlo più uno è sempre forte io penso sia uno di quei mazzi che non è ancora variato da quando è sempre un mazzo fortissimo essere forte non credo forse passo a salutare ma è difficile perché domani è orario di live quello lì o faccio la live a pranzo o sicuramente a giocare non riesco forse passo a salutare sicuro forse sì c'è il prelisa ad asola sì lascia lì e poi al massimo li ritiro intanto grazie vediamo se riesco passo volentieri se no causa di forza maggiore perché lavorando al pomeriggio intanto allora prendiamo anche l'altro contro l'esper l'esper secondo me è sotto geskai ed è sotto uv perché cerca quel nero che esce oltre ad orchetto ma non gli serve veramente non gli causa tutta questa grandissima anzi a volte è controproducente secondo me cercare il nero però è sempre un ottimo contro sì sì per me è un 1 e mezzo è sempre un 1 e mezzo cioè è sotto geskai ma nello stesso tier alla fine comunque forse possiamo metterlo tier 2 però se controlla se controlla controlla ma passiamo all'altro turno 4 vinco cerveggia esatto questo è sceso secondo me questo è sceso secondo me perché carna lo blocca perché no no è sceso 1 e mezzo cioè non è che è sceso più di tanto però dal lungo fisio da quando c'era è sempre un mazzo ragazzi che se siete il mazzo sbagliato contro di lui lui a turno 4 vi chiude sì sì cioè lui a turno 4 chiude punto non blocchi qualcosa o c'hai due counter in mano hai due counter in mano o hai fatto più vite di quante lui possa farti danni sì però è difficile sono comunque ragazzi 50 vite turno 4 e cazzo deve girarvi bene il game life per aver fatto 50 vite sì però è sceso obiettivamente perché on the draw adesso fa più fatica è scarto i scartini che ci sono in cima sono appena detto fateci i scartini dove la dragon storm effettivamente gioisce poi sì 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 ci sta o più sotto sarebbe un insulto squirrel l'altra volta l'avevamo messo uno e mezzo uno mi sembra invece è sceso un botto secondo me allora non è sceso tanto non lo so secondo me si è sceso secondo me siamo su un tier 2 sì perché non so definirlo l'altro giorno racconto questo anedito di probabilmente un player secondo me abbastanza nuovo non giocava da molto ha scombato con squirrel il combo io avevo giù obliterator lui ha attaccato io ho detto vabbè togliendo il conto che lui stava due vite io ho pescato anello ho giocato anello e la prima pescata anello è stata shelly quindi avrei vinto comunque togliendo quello io gli ho mandato contro obliterator dicendo vediamo se è così stupido da parlare ci ha bloccato 40-40 40-40 ha sacrificato 40 per me fantastico merda fantastico però vabbè togliendo questo eccezionale secondo me si o è tier 2 o io e mezzo io ti dirai perché comunque quando combe non puoi rispondergli ma quante volte non gli puoi più rispondere adesso però perché Olco ammazza Solvarden vabbè vabbè giochi incantesimo come giocavamo prima in maniera qui si si no allora ha sempre il fatto che comunque lui fa scogliattoli infinite ok fa vite infinite ma comunque dopo deve aspettare un turno per doverte attaccare con quegli scogliattoli ecco il turno può essere decisivo adesso perché dicendo peschi anello che ti salva un turno e intanto ti blocchi i danni per un turno magari ti pesca avratta cambia adesso la situazione non è più magari alto come prima ma secondo me è un 2 dai lasciamogli il tier 2 Mono White Game Life io ne ho trovati una marea in questi giorni ma come non è impossibile posso dire lo più che altro Angeli no ma tu lo confondi secondo me tu vedi Angelo e pensi che sia Celesmia no Angeli con Coco li ho trovati non ho mai trovato ma no non è possibile se ne trovano due ad evento non è possibile io ne sto trovando molti non è possibile ma non io ne sto trovando molti si si Mono White Game Life no no ma cioè neanche con il budget che intendiamo noi si si ho capito con l'oratore con l'oratore con l'oratore 2 con l'ingok compagno di Ajani con i compagni di Ajani io sto trovando davvero tanti non capisco come mai te lo dico io perché è il mazzo gratis ma Mickey ma è veramente impossibile che non ne stai trovando quanti eventi fai al giorno uno no è impossibile è impossibile ti giuro sto trovando una quantità di mangi che non ha senso rispetto alle mie normali partite ma un po' di Angeli li ho trovati ultimamente ma fine Mono Bianco Game Life no zero faccio veramente fatica crederci perché questo adesso se ne trovano veramente tanti ti devo raccontare le mie sfide su Arena anche perché siamo pre-espansione quindi la gente lo sta giocando solo per farmare io lo trovo io lo trovo costantemente ho trovato più per quanto secondo me sia un tier scarsissimo adesso non so se mettono in due e mezzo o altro grazie Fabrizio ma ce ne sono tantissimi che girano sicuramente no se non li vedo non posso dare pareri beh allora intanto che siamo in tema di gay life parliamo dell'altro no ma dove lo mettiamo però io ti dico due e mezzo no dai altro non cioè comunque due e mezzo secondo me altro no comunque se per taglio parte cioè due e mezzo vuol dire che monowhite affinity lo stiamo valutando altro però secondo me sono quasi lo stesso mazzo più che altro perché io lo vedo sopra finici per quello c'è che ti dico anche affiniti e sopra finici cioè se questo è altro ragazzi non può essere dai l'altro hai ragione mettendola così sì no non ha senso poi grulagro grulagro poi hai detto che ci avessi fatto un bel evento con grulagro ne ho fatti tre purtroppo posso dire il grulagro è una combinazione di colori che non vedo mai anch'io pur giocandolo e portandolo e facendosi il risultato lo vedo poco 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 io capisco che magari non è che adesso si abbia tutto questo gran è sceso secondo me il mese scorso era salito non lo so io ti direi ma non conoscendo il due e mezzo sì io ho sempre l'idea che attarca command sia fortissimo in questo in questo meta qua però sì se devo pensare a un aggro preferisco forse giocare monoled budget probabilmente sì è un giusto il due e mezzo sì no ma buttandola così non conosco reanimator ecco qui qui posso dire senvise qui posso dire senvise io non l'ho mai guarda posso dirlo l'ultima volta che ho visto attraxia reanimator no l'ultima volta che ho visto attraxia reanimator non perché l'ha reanimata ma l'ha castata di mano infatti ho detto io reanimator ragazzi non l'ho più visto penso sia sceso paurosamente ma già di fatto perché orchetto no perché orchetto ti mangia prima ma poi boh sì no secondo me è un mazzo sparito vabbè allora togliamo il lato più brutto di reanimator ovvero quello che c'è nell'immagine ovvero serremissari no sì adesso c'è attraxia adesso se pensiamo esiste attraxia nel formato perché un reanimator non dovrebbe giocare attraxia perché non giocano più grish fa che a turno 3 fa è lo stesso discorso solo che secondo me reanimator è sceso davvero molto 2 e mezzo vogliamo essere buoni se proprio dobbiamo collocarlo nel 2 e mezzo è proprio al fondo del 2 e mezzo secondo me non lo so forse siamo un po' troppo buoni Rakdos non prendiamoci in giro mettiamolo là e va soffro un po' da entrambi ragazzi io lo dico dobbiamo provarlo se Rowan risulta essere una carta fenomenale come la stiamo pensando Rowan è forte ragazzi preparatevi a dire addio a Crucias o comunque tenerlo no addio no però diminuire le copie di Crucias permette ogni turno 3 Rowan Rowan turno 4 se è rimasto lì e tu ti fai due danni di Payland ti fa veramente delle robe chi oldred da 2 no no chi oldred da 2 chandra chandrona 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 turno 4 basta giocare terra staffata shockland o ti fai due danni di Payland o ti fai due danni di Payland volontariamente o ti spari perché la gente non si dimentica che Orchetto ti spara anche a te potrebbe essere anche quello comunque drawback di anello che viene parato da chi oldred ma comunque i danni te li fa quindi Rowan li calcola 4-2 minacciare 4-2 minacciare non muore da Orchetto turno 3 c'è a vedere come gira in quel massimo c'è a vedere esatto dobbiamo tenere duro una settimana comunque è un tier 0 dai i tier 0 sono qui tra i lì adesso c'è poco da dire e dopo io ci abbia una figa della madonna e non riesco a portarlo a premio un altro discorso però ragazzi c'è dai si mangia tutto e tutti non lo so non lo so te prego secondo me Rowan è una bestia fortissima eh no ragazzi secondo me anche perché se Fattine toglie Rowan sta morendo da Anello e da Sheodred quindi no non sono molto d'accordo perché è entrato un orco il turno prima eh eh non lo so esatto è quello non lo so se la gente si deve pian piano focussare su Rowan lascia tempo a quell'altra bestia che arrivano dopo per dire io sono entrato perché Crucias no ma Crucias muore da orco in questo meta qua lo non l'ho fatto apposta che è comunque fortissimo è allucinante ma muore da orco cazzo Rowan non muore da orco non lo so vedremo 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 tra una settimana cosa succede io una copia in Ragdus ce la metto poi ah giusto ricordiamo è mitica non è neanche rara Jund è Jarsy mi intendo Jarsy Jund qua mi gioco la carta d'orzello Sam Vise io non l'ho visto Jund Jund non lo so qual è la parola io non so per me è un tier 2 nel senso che può essere molto molto forte ma a me non piace come mazzo poi io non lo so è la mia per me Ragdus è 20 anni sopra 20 anni sopra non c'è niente a fare poi adesso che girano i control non lo so secondo me è tier 2 2 vai vai tier 2 Goblin Goblin è salito Goblin è un bel periodo per Goblin non so come non è cambiato non è cambiato lui perché è l'unico tribale che se ti fanno removal si ricicla e quindi è un po' più facile da da riprendere che si riprenda che ti scombi in faccia eccetera eccetera non è un tier 1 ragazzi no no non è un tier 1 però è un ottimo tier 2 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 meglio di elfi può essere adesso sicuro può essere un buon tier 1 e mezzo anche però tier 1 no il drain anche qua chiedo io ormai chiedo lo porterà il drain non ha niente per Goblin peccato o tier 2 o tier 1 e mezzo secondo me la versione monored è tier 2 e la versione con Goblin Cabaretti è tier 1 e mezzo quindi al momento ve lo piazzo in tier 2 anche perché il problema di Goblin che è sempre il problema che ha sempre avuto è che se se Muxus non gira fine è finito è finito è finito però Muxus è matematico che arriva è quell'RNG di Muxus che deve dire dipende dipende contro chi sei dipende che gestione di borsa è stata non tirare un Muxus magari fanno scarto vabbè è comunque un ottimo mazzo e a di Rob per vincere anche senza Muxus è per Affinity che è UV UV Affinity è uno splash di nero per lo Skirja allora secondo me è sotto la sua versione Boros sono d'accordo sono d'accordo allora non so se dà lì 2 2 e invece d'altra parte il suo amichetto 1 e mezzo secondo me non c'è siamo lì non c'è 5 danni che hanno preso anche poi quella spelli veramente forte adesso non hai più il 4-4 turno 1 hai il 4-4 turno 1 iota turno 2 turno 3 quello che vuoi quello che vuoi sono danni sberla in faccia sì 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 quindi tier 2 confermiamo UV Affo che purtroppo è sceso tier 1 e mezzo e alla fine Angeli ricreduto con l'ultima partita giocata dopo aver ricostruito un mazzo che imprimere è davvero indecente non ce la faceva più dandogli anello a una marcia cioè sicuramente prende una marcia in più ma secondo me è un 2 sì non andiamo allora vince da dredge ninja goblin sì UV se giri bene se riesce a fare dipende sì dipende non è sempre garantito maghi eh 50 ripeto è sempre quel 50 e 50 sono qui se tu fai più vite di quelle che magari riesci a togliere basta fare quelle 8 vite dopo come abbiamo già detto maghi ha messo ha preso lo spell che fa 5 danni ma in all'altro caso secondo me ragazzi potendoci per mettere anello nel mazzo è così sì sì no è un tier 2 non sta sì è un tier 2 sì altino però con anello è messo meglio un anello come abbiamo detto già con anello ha solo guadagnato in più la possibilità del quando finisci le carte in mano non sei più dipendente dal top deck e le finisci alla svetta esatto in anello le carte in mano le finisci però posso dire che nell'ultimo evento ci ha dimostrato che può vincere contro tutto sì è sempre comunque in un gioco ti tira bene una Coco turno 4 è sempre è sempre quel discorso in un gioco dove l'obiettivo è portare a zero la vita dell'oppo poi scusami c'hai la Coco c'hai l'anello c'hai una farewell tattica hai comunque modi per pulire io adesso non dico che è una cosa che succede sempre ma io con Angeli partite da contro le ho vinte perché a Rianimino a fine turno loro le ho messo in quel posto perché non sapevano cosa fare e vinci però non è una cosa garantita è giusto allora ragazzi adesso facciamo una piccola analisi perché sono scesi molti mazzi in quanti di questi si gioca Canello del Potere 1 2 3 4 chi ha il primo mazzo in 4 il primo mazzo in 0 è dimier control 4 5 6 6 7 sono 7 mazzi cosa solo 7 mazzi giocano anello del potere no Jagmoth no ragazzi no Jagmoth controlla un attimo la lista al volo per sicurezza ma non lo gioca la giocavo non gioco a corda non ce l'ho presente può essere che mi mi stia dimenticando no 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 in generale in generale ma non lo gioca Jagmoth perché dovrebbe giocare anello ma poi l'hai giocato un bel po' di tempo fa sto cercando aspetta non lo vedo io lo gioco non è così indietro scusi fai prima a scrivere Jagmoth no no è più indietro no no c'era gattone bianco un arancione era dopo gattone bianco un arancione era prima sì probabilmente sia sì sì probabilmente sia sul Thai Legend One White Humans dov'è che lo stiamo perdendo è qua in mezzo e carichi troppi eh un video al giorno è normale carichi troppi i video Rakdos Rakdos questo qua era il test di Anello One White Humans Totteri Grulla deve essere qua in giro Deve essere qua in giro Deve essere qua in giro Tiago ok 3 settimane fa vediamo eh non penso a giocare anello scusami che non lo giocavo no non c'è infatti c'è corda no non lo giochi Yalmoth ragazzi io non lo ma no perché dovresti giocarlo rischi di di farti male con perché non hai modo di riguadagnare vita se non giochi Shelly no cioè devi giocare la versione con Shehold per farlo sono due liste diverse probabilmente quella con Shelly probabilmente forse ne gioca una o due però cioè adesso obiettivamente che lo giocano sono sette mazzi uno due tre quattro cinque sei sette otto angeli otto no sette non è detto che angeli sono giochi di base non sempre ok sette liste su una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci no come tre dieci non le conti sono otto in tier due sei quattordici diciotto cioè sette liste su ventuno alla fine un terzo si problema anche che non è così tanto comunque sette su ventuno un terzo però anche quelle sette stanno tutte in tier uno su in su no beh allora però quanti altri mazzi non giocano anello uno due tre di usare l'anello per tirare quattro cinque e poi sei aspetta sto facendo casino sei questo potrebbe anche giocarlo secondo me sette otto nove dieci undici dodici mazzi comunque non lo giocano nelle prime insomma dal tier uno dal tier zero al tier due boh ragazzi secondo me la dura verità è che uno due tre quattro cinque cinque mazzi hanno shieldred e anello e quanti di questi giocano orco altro dato uno due tre quattro cinque sei eh sei comunque sette anelli sei orchi cinque sceglie eh la situazione del formato è questa io sono convinto che non giochi scegli anello e orco dove nei mazzi combo che non hanno bisogno di fare campelli perché ti serve uno serve la combo non ti serve scegli però tipo in young mot giochi orco perché è un buon pezzo sono curioso in realtà posso contare un attimo quanti mazzi giocano orchetto in generale perché uno due tre quattro cinque no sei beh questo è giunto e lo può giocare sette sette otto death shadow no non lo giochi otto mazzi su così tanti giocano anello giocano orco ma non è neanche così male come pensavo non è neanche così male come pensavo il fatto è che la triade adesso è quella lì e orco scegli anello orco scegli anello se tu inizi a metterci del nero in un mazzo qualsiasi midrange che sia non puoi dimenticarti queste carte ce li metti sì e si sono abbassati tanto dei mazzi che prima erano tier 2 proprio perché esiste quella combo lì cioè il fatto che orchetti ci sia e sparare il troppo a uno il fatto che adesso il pescare si è diventato solo un malus se hai contro avversari del genere eh sì vabbè io direi che questa è la tier list difficile che no beh UV lo gioca anello madonna se lo gioca anello ti prego è fortissimo con anello ragazzi c'è union che fa vantaggio UV non gioca scegli orchetti uno perché ha un mone nero due perché si li fa con l'oran con altre spell non ha bisogno chi è l'oran la spell a tra bianca unione unione sì non è l'oran union of the third pact no union of the third pact no no UV lo gioca lo gioca di bestie ragazzi sì no le vite per uv control non sono un problema quando c'è unione quindi ma poi c'è i carne che ti va a prendere robe la ivory tower c'è il modo di rifarti le vite è wandering emperor la spinge green troller carta rivaluta tantissimo penso ci vinci le pact no è una win con l'anello è una win con l'anello perché pompandosi con lifelink in più peschi l'anello a un certo punto ti fa pescare cioè lei la gioca a turno 6 possibilmente l'anello ha già due counter quando difficilmente la gioca a turno 6 lei è un drop a 6 che va giocato alla fine della partita per chiudere però si è veramente follo grazie per il follo spone spone scia comunque questa è la tier list ragazzi adesso aspettiamo il drain e quando arriverà il drain rifacciamo la tier list aggiornata dopo un po' che abbiamo visto come girono le cose nuove ho fatto una domanda bai cosa ne pensi del mazzo improvised con paradoxical outcome e i totteri mai visto penso che sia un reservoir combo che però passa da ornitottero per qualche motivo non ho proprio idea ma secondo me è quello lì è sempre combo paradoxical outcome è quello che stappa è sempre quello è sempre reservoir combo a ether flux combo comunque salutiamo chi ha visto questo video su youtube grazie mille di cuore lasciate un like e condividete se vi è piaciuto e come al solito grazie mille per tutto il sostegno che ci date un grazie anche ai moderatori che ci hanno fatto compagnia adesso per quelli che invece rimangono su twitch faccio giocare un po' i mod quindi apriamo arena grazie mille di cuore grazie mille di cuore grazie mille di cuore grazie mille di cuore